Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati su gestioni di calciomercato parliamo di Mauro Riccardi. Facciamo un recap prima, perché parliamo di Mauro Riccardi? Perché moltissimi di voi, sia sul nostro profilo Instagram sia sulla nostra pagina Facebook, si stanno chiedendo informazioni su Mauro Riccardi e su tutte queste notizie che varie testate giornalistiche, tra cui proprio oggi la Gazzetta dello Sport, parlano e associano il nome di Mauro Riccardi al Milan. Vediamo qual è la verità. La verità in questo momento è che Mauro Riccardi è un esubero al Paris Saint Germain, perché il Paris Saint Germain davanti tra Neymar, tra Mbappé, tra la ferma volontà di riscattare Moise Ken e Di Maria, quindi nel reparto offensivo, il Paris Saint Germain è davvero davvero al coperto. E Mauro Riccardi percepisce un ingaggio importante che tra poco vedremo. E poi c'è la ferma volontà, quindi se da un lato c'è la ferma volontà del Paris Saint Germain di collocarlo, di piazzarlo perché ha un ingaggio importante e non è ritenuto imprescindibile, c'è anche la volontà della famiglia di Mauro Riccardi e soprattutto della moglie Wanda di tornare in Italia. Quindi le piste, le uniche squadre concretamente che potrebbero decidere di acquistare Mauro Riccardi potrebbero essere la Juventus e il Milan. Però la Juventus si sarebbe defilata dall'arrivo di Massimiliano Allegri, infatti sono cambiate drasticamente le politiche di calciomercato dopo l'addio di Fabio Paratici, tra cui anche l'ex calciatore rosso-nero prossimo del Paris Saint Germain, Donnarumma, che piaceva molto quando c'era Paratici e adesso che c'è Cherubini e Allegri, che ha un ruolo manageriale, non rientrava più nelle priorità. Stessa cosa a Mauro Riccardi, piaceva molto a Fabio Paratici, ma Cherubini e Allegri preferiscono il riscatto comunque di rinnovare il prestito di Morata. E quindi già alla voce Icardi, sono pochi i club interessati a Icardi, non tanto per una questione tecnica, ma probabilmente più per una questione familiare, e Wanda ha creato qualche problemino all'Inter, però il Milan potrebbe e saprebbe, probabilmente visto l'ambiente, visto la squadra giovane, potrebbe in qualche modo gestire bene il calciatore e la relativa famiglia. Adesso entriamo nelle dinamiche del calciatore. Il calciatore prende 12 milioni lordi all'anno al Paris Saint Germain. Abbiamo fatto una verifica e il prelievo fiscale in Francia ammonta al 44,05%, quindi fatto il calcolo dei 12 lordi, più o meno netti, siamo sui 7,7,5%. Quindi sicuramente un numero davvero, una cifra davvero importante. Però, c'è un però, perché Mauro Riccardi è già da due stagioni all'estero e quindi potrebbe beneficiare del decreto crescita, dell'agevolazione fiscale. Quindi, il fatto che non ci siano concorrenti in questo momento in intersetta Mauro Riccardi, il fatto che probabilmente il Paris Saint Germain potrebbe decidere e sta decidendo di non puntare su di lui. Dall'altro lato, la volontà del calciatore e della famiglia di rientrare in Italia potrebbe sicuramente facilitare la trattativa, potrebbe facilitare l'arrivo di Mauro Riccardi in rosso-nero. Ricordiamo però con che formula Mauro Riccardi è arrivato al Paris Saint Germain. È arrivato al Paris Saint Germain per un prestito con diritto di riscatto e il Paris Saint Germain per Riccardi ha sborsato all'Inter circa 50 milioni di euro più 8 di bonus. Quindi non può, in qualche modo, comportarsi una minusvalenza bilancio. Quindi la soluzione più in linea potrebbe essere quella di un prestito, un prestito oneroso con diritto di riscatto magari intorno ai 35-40 milioni di euro. E poi starebbe a Mauro Riccardi, con la sua qualità, con i suoi gol, meritarsi la conferma. È una suggestione, non è ancora una trattativa. I rapporti tra Leonardo e Paolo Maldini sono ottimi. Questo potrebbe essere il quarto elemento che potrebbe facilitare l'operazione, ma non è un'operazione che nel caso sarà un'operazione a medio-lungo termine, perché potrebbe essere, dai primi di agosto in poi, il nome giusto per il nome giusto e l'opportunità giusta di calcio-mercato su cui fiondarsi. Quindi riassumiamo in breve quali potrebbero essere i punti per arrivare a Mauro Riccardi. Non c'è grande concorrenza. Il giocatore e la famiglia vogliono tornare in Italia, il Paris Saint Germain non lo ritiene un elemento imprescindibile della rosa e soprattutto il Milan e il Paris Saint Germain tra Paolo Maldini e Leonardo. Ci sono davvero ottimi rapporti. È una suggestione, l'abbiamo voluta analizzare a 360 gradi rispetto alle notizie che emergono sui giornali e ve l'abbiamo voluta riportare. Non so cosa ne pensate voi invece di rubrica rossonera, fatecelo sempre nei commenti del video, se vi piacerebbe vedere Mauro con la maglia rossonera e, come sempre, condividete il più possibile. Ciao a tutti e Forza Milan!